Pronto? Pronto? Buonasera, sono Emma, la contatto da... Buonasera, sono Emma, la contatto da... Mi sente? Si, sento bene. Guardi, volevo solo informarla che il suo numero è stato selezionato per ricevere in omaggio il depuratore dell'acqua, compreso di installazione. Quanto costa? Le spiego però... No, è gratis. Niente. E' in omaggio. E' mia giornata fortunata. Eh sì, ogni tanto ci sono le giornate forzate. E' un bellissimo cosa. Ah, però devo dirle, l'omaggio è rivolto alle coppie, lei è sposato o convive? Ma io trovo subito donna, io non donna, ma trovo subito, io trovo, se serve per omaggio io trovo, vado fuori, prendo uno e ci dico depuratore omaggio, vieni subito con me perché abbiamo depuratore omaggio. Immediatamente trovo. Va bene, va bene, va bene, buonasera. Va bene, va bene, buonasera. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti